Germania ha approvato il disegno di legge per facilitare l'arrivo dei lavoratori stranieri qualificati. Mobilità internazionale, il prossimo 25 ottobre a Milano il nuovo convegno di ECA Italia. Ben ritrovati a una nuova edizione di ECA Italia News. In primo piano le novità che arrivano dalla Germania sul fronte lavoro e immigrazione. Il Parlamento tedesco ha approvato un nuovo disegno di legge che punta a facilitare l'ingresso in Germania di figure professionali qualificate. Tra le modifiche principali segnaliamo la creazione di un Opportunity Card basata su punti che offrirà un permesso di soggiorno rinnovabile di un anno per cercare il lavoro in Germania. E poi ancora l'allentamento dei percorsi per i candidati con esperienza professionale con requisiti ridotti per quanto riguarda la conoscenza della lingua tedesca e il riconoscimento dei titoli di studio. In più la possibilità per i lavoratori nel settore della tecnologia, dell'informazione o dell'istruzione di richiedere una carta blu anche se privi di laurea ma con un'esperienza lavorativa pregressa nel settore. I regolamenti del disegno di legge dovrebbero entrare in vigore entro marzo 2024. Chiudiamo la puntata di oggi ricordandovi che anche quest'anno ECA Italia vi dà appuntamento con i suoi convegni autunnali dedicati alla Global Mobility. Il primo sarà in presenza a Milano il prossimo 25 ottobre presso l'Hotel Cavalieri e sarà l'occasione per approfondire i temi e le problematiche gestionali connesse ai lavoratori italiani all'estero. Per avere maggiori informazioni e per rimanere aggiornati vi invitiamo a seguirci su LinkedIn o a consultare la sezione dedicata del sito distaccoestero.com. E con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata.